Io mi devo svegliare e trovare il mio cane così Lola Ciao principessa Vabbè Inoltre mi è arrivata questa nuova maglia Guardate qui quanto spacca Da Giacomo che ringrazio E ti mando un bacione Salve amici, come state? Come state? Io sto molto bene, sono al mare ma sto per andare ad allenarmi Dopo un po' di tempo che non mi allenavo oggi ho deciso di riallenarmi Ebbene sì, quindi forza e coraggio Solo che sono le 14.30 e io volevo fare uscire un nuovo post Però non lo faccio uscire ora ma lo faccio uscire alle 16.30 Quindi io mi metto qui la sveglia e mi raccomando attivatela Vi aspetto e inizierò a rispondere ai commenti, a mettere dei like Inizio a seguire qualcuno Quindi vi aspetto sotto l'ultimo post e attivatela, mi raccomando Che brava che sei La ho molto buona in fischiatto, ti giuro Ok raga, è cacciatissima, vai Mondo, 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 è appena uscito il nuovo post Andate a mettere like e commentate Vi aspetto sotto l'ultimo post Un bacio Comunque dopo l'allenamento sono venuta in spiaggia Ma raga, ero distrutta, facevo un sacco caldo Ho fatto il bagno, adesso sto molto bene Però vi giuro, riprendere per me è stato distruttivo Non mi stanno come a dirti che mi manchi Anche quando è tardanotte io mi sveglio per pensare Ok, gli occhi ciccono, mentono mai E tu sei la mia piccola copia Salve amici, come state? Come state? Io sto molto molto bene Tra l'altro, adesso sto andando in spiaggia Mi sono fermata qui in un angolino all'ombra Perché mi piaceva molto la location Ad ogni modo È appena uscito un nuovo post Quindi schiacciate qui, andate a vederlo Adesso rispondo a un po' di commentini Vi aspetto sotto l'ultimo post Parliamo un po' Inoltre volevo anche chiedervi un consiglio Per questa sera, sono indecisa dato che ho un compleanno Se fare i capelli lisci, se tenerli lisci o farli mossi Quindi io vi lascio qui il sondaggio e faccio decidere a voi Forse Mondo, mondo, mondo Dal 18 al 24 luglio ci sarà il My Idol Camp a Canezei Io sarò lì dal 21 al 23 Potremo fare tantissime attività insieme Raga, io sono prontissima per questa sera Tra l'altro Ho ascoltato il vostro consiglio E ho fatto i capelli mossi Però a breve vi faccio vedere l'outfit completo Siete curiosi? Voi che farete di bello stasera? Raga, ma guardate qui il mio Dai, il mio lavoro Guardate che bel biondino che ho creato E tra l'altro questa sarà la mia prossima vittima Però dai Biondo naturale, proprio 100% Cosa? Sono molto contenta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti